Slitta al 7 settembre, l'interrogatorio del dirigente regionale al Dipartimento al Lavoro e alle politiche sociali Vincenzo Caserta ha indagato insieme all'ex leader di Calabria Etica, Pasqualino Ruberto, nell'inchiesta sulle assunzioni irregolari in vista delle regionali e delle comunali lametine del 2015. Il GIP del Tribunale di Catanzaro, Carlo Saverio Ferraro, ha chiesto l'astenzione e adesso la parola passa al presidente della sezione GIP Group che dovrà decidere se assegnare il fascicolo a un altro giudice o bocciare la richiesta di astensione di Ferraro. Caserta, sotto accusa per abuso di ufficio, doveva essere sentito questa mattina un'audizione necessaria perché il giudice si possa pronunciare sulla richiesta di interdizione dei pubblici uffici formulata dal sostituto procuratore Graziella Viscomi, titolare delle indagini. E intanto l'inchiesta sugli incarichi clientelari che hanno consentito di fagocitare all'interno dell'ente in house della Regione Calabria 261 collaboratori non si ferma e presto potrebbe segnare un altro traguardo ampliando il numero degli indagati e i capi di imputazione confermando quanto detto all'indomani del sequestro di 361 mila euro a carico di Ruberto che deve rispondere di abuso di ufficio e peculato dal procuratore vicario Giovanni Bombardieri. Siamo solo al primo step.